il mondo gira come sempre e allora arrivato il nostro momento l'oroscopo e l'almanacco siamo già al 14 di maggio ben trovati e trovati da mauro san mattia apostolo dopo il santo del giorno e compleanni un regista un grande regista e produttore george lucas 14 maggio 1944 e poi c'è lei sexy dentro fuori intorno a un'attrice una stilista è nata il 14 maggio del 67 valeria marini frase del giorno e poi l'oroscopo accada quel che accada anche il sole del giorno peggiore tramonta ariete date tempo ad un progetto che sta maturando e concentrate i vostri sforzi su ciò che avete a portata di mano una decisione presa con tempismo e coraggio si rivela azzeccata possibilità di superare le tensioni familiari ricorrendo al vostro senso della realtà toro in campo pratico e lavorativo la volontà e la chiarezza nelle idee vi permettono di non cadere in una trappola evitando situazioni di ristagno assecondate la vostra natura e in amore siate espansivi e pronti a captare le sfumature gemelli si riscalda il dialogo amoroso nuovi motivi di affiatamento vi rendono più che mai aperti a un'intesa spumeggiante nel lavoro non rifiutate un'alleanza per motivi di orgoglio favorite le iniziative culturali ed artistiche in genere cancro applicatevi con entusiasmo nel lavoro i risultati non tarderanno a ridarvi piena fiducia in nuovo slancio verso traguardi soddisfacenti attenti però al bilancio limitate le uscite non indispensabili leone favorite tutte le iniziative che permettono di ampliare i contatti umani sia nel lavoro che nelle amicizie difendete la sfera degli affetti da ogni interferenza esterna la persona amata ha bisogno della vostra esclusiva vergine i fatti vi danno ragione non date peso alle critiche e continuate per la vostra strada fate appello al vostro senso pratico e risolverete una situazione meno complicata di quanto in realtà non vi sembri documentatevi prima di fare acquisti bilancia avete voglia di battagliare di dare scacco matto alle difficoltà nei rapporti interpersonali mantenete i giusti equilibri meglio difendere i propri spazi senza invadere quelli degli altri in famiglia dite no ai sensi del dovere eccessivi incontri amorosi favoriti da venere questa sera scorpione i pianeti vi aiutano a guardare in faccia le cose con realismo non lasciate che qualcuno fraintenda meglio mettere subito in chiaro i termini di una proposta un'attività lavorativa vi prepara nuovi sbocchi sagittario è il momento di lasciarvi guidare dall'intuizione nei rapporti amorosi non createvi aspettative vivete il presente con piena disponibilità prendete voi iniziativa di un invito marte vi rende dinamici nel lavoro capricorno giornata impegnativa ma proficua per chi è assorbito da problemi lavorativi qualche problema invece ci sarà in famiglia non lasciatevi influenzare dalle tensioni altrui usate pazienza e spirito di abnegazione trasformazioni per il cuore belle fioriture in vista acquario giornata elettrizzante che vi impegna emotivamente e mentalmente situazione favorevole per recuperare una maggiore ampiezza di vedute ed elasticità nel comportamento fate una scelta in campo sentimentale venere vi aiuta a vederci più chiaro pesci oggi un familiare vi darà una mano per realizzare un progetto nel lavoro non innervositevi per qualche contrattempo tutto si risolverà per il meglio se manterrete la calma incontri sentimentali appaganti stasera se saprete viverli all'insegna del nuovo